Come Original Marines, di cui abbiamo avuto la fortuna di collaborare con il gruppo Zucchetti non nella logica di fornitura di servizio, ma nella logica di partner del business. È stata questa, secondo me, la chiave di successo. Ogni singolo consulente ha ragionato nella logica di business Original Marines per cercare di fornire la soluzione migliore al processo stesso. Grazie a tutti.